Il mestiere di vivere di Cesare Pavese. Oggi parliamo di un'opera molto particolare, una specie di diario, il diario di Cesare Pavese. E quindi, visto che parliamo di un'opera di questo genere, ci conviene dire qualcosa anche della sua vita. Un intellettuale pavese che ha vissuto una stagione particolare, quella del neorealismo, insieme a tanti altri giovani intellettuali, antifascisti. Aveva coltivato dei sentimenti di libertà, di cambiamento della società, sogni di giustizia. Proprio in un periodo però in cui purtroppo c'era il regime, c'era il regime fascista. Ecco, lui era nato il 9 settembre del 1908 a Santo Stefano Belbo, quindi nelle colline, le langhe piemontesi, da una famiglia borghese agiata. La madre cagionevole di salute, il piccolo Cesare affidato a una balia, qui resta molto legato. L'educazione è severa, rigorosa e influisce sul suo carattere introverso, instabile, insicuro. Ecco, insomma già la situazione, la condizione che gli tocca di vivere è penosa, insomma, soprattutto poi quando perde anche il padre, nel senso che il padre, che è cancelliere di tribunale, muore quando lui ha poco più di cinque anni. Se vogliamo, anche nel mestiere di vivere si esprime questa mancanza del padre. La mancanza del padre è un simbolo, se vogliamo, dell'uomo contemporaneo che ha perso una sua stabilità, un punto di riferimento. Ecco, questo è sicuramente anche il senso profondo del libro di cui parliamo oggi, Il mestiere di vivere. C'è un figlio che non ha un padre, cioè l'uomo contemporaneo che non ha più, ad esempio, una religione a cui affidarsi perché non c'è una presenza che pure è una presenza desiderata, pure è una presenza di cui si sente la mancanza, è un'assenza che comunque riempie il cuore di Cesare Pavese. Seguiranno altri lutti familiari, la sorella e i fratelli, e questo renderà ancora più pupa e triste la giovinezza di Pavese, e quindi stradandolo verso un sentimento della vita che è quello di cui parliamo oggi, che è un sentimento sconsolato, amaro. Frequenta le scuole a Torino. Torino è una città di Gramsci e di Gobetti, di Carlo Rosselli. Proprio Carlo Rosselli, tra l'altro, aveva dato il via ad un movimento e a una rivista, Giustizia e Libertà si chiamava, di carattere socialista, di un socialismo liberale, un socialismo laico, un socialismo originale, insomma. Infatti si muovevano intorno a questi personaggi. Ne abbiamo già parlato, ad esempio, a proposito di Montale, il quale già conosceva Gobetti, conosceva questo circolo di intellettuali liberali, che erano antifascisti. Lui, tra l'altro, frequenta una scuola in cui c'è un professore, professore di lettere, appunto, Augusto Monti, che è antifascista e quindi forma tutta una generazione di antifascisti, come Norberto Bobbio, Leone Ginzburg, Vittorio Foa e Tullio Pinelli. E Cesare Paese fa parte di questa generazione. Sono dei giovani, l'ho già anticipato, che saranno protagonisti della stagione culturale del neorealismo. Pensate, per esempio, a Giulio Leinaudi, che poi fonda la Casa Editrice, no? Tutto una cerchia, insomma, di amici, di persone, di intellettuali vivaci in questo ambiente piemontese. Interballa gli studi con gli amori adolescenziali. Ama una ballerina. Ecco, anche il rapporto con la donna è sempre stato un rapporto tormentato, perché, come abbiamo detto, l'esistenza di Cesare Paese è un'esistenza in cui ci sono delle mancanze. Manca qualcosa, manca un padre, manca una donna. Lui affannosamente cerca di colmare queste lacune, questi buchi, questi vuoti. Non sempre ci riesce. Ad esempio, tutti questi rapporti con le donne saranno sempre rapporti di breve durata. Le prime malattie fisiche ed esistenziali, la pleurite, le manie suicide, perché, abbiamo già detto, vive un'esistenza piuttosto amara e ha manie suicide sin da quando è giovane e poi arriverà il momento in cui, insomma, si suiciderà davvero. Si iscrive all'università, facoltà di lettere, dove mostra interesse per la letteratura americana, schermo metaforico della sua condizione esistenziale, del tutto estraneo al trionfalismo autarchico del regime. Lui legge Walt Whitman, per esempio, poeta americano, legge e fa una tesi di laurea su Walt Whitman, traduce Melville, Joyce e poi legge Hemingway, Faulkner, insieme a Vittorini faranno un'antologia. Paese, insieme con Vittorini, insieme con Fenoglio, trovano nella letteratura americana qualcosa di molto più sincero, concreto, reale, vicino alla realtà, esattamente il contrario di quello che vedevano nella cultura della retorica del regime, del fascismo. Ecco perché loro amano molto la letteratura americana e intuiscono questa cosa fondamentale, che la letteratura americana può svecchiare la letteratura italiana. La letteratura italiana è ancora un po' troppo legata alla prosa d'arte, a un modo di scrivere così molto esteriore, un po' ad annunzio, se vogliamo, un po' retorico. C'è bisogno di cambiare e questo cambiamento può avvenire anche grazie alla conoscenza di questa letteratura americana così nuova. Incomincia, dicevamo qui, la sua militanza antifascista nel gruppo di giustizia e libertà. Nel 1935, per una accusa di antifascismo, lui dice per difendere una donna dalla voce rauca, subisce una condanna a tre anni di confino a Brancaleone, in Calabria, dove gode del vivificante contatto con la cultura magno-greca, scrive le sue prime poesie confluite nella raccolta Lavorare stanca del 1936 e inizia a scrivere il mestiere di vivere, cioè inizia a scrivere il libro di cui stiamo parlando oggi, cioè in sostanza viene confinato a Brancaleone Calabro. Ecco, dicevamo di positivo questo, insomma, siccome lui ama molto la Grecia, infatti poi scriverà nei dialoghi con l'Eucos, scriverà molto dei miti greci, quindi era affascinato da questo mondo, da questa cultura e quindi va lì dove, insomma, ovviamente i greci sono arrivati per primi in Italia, in quelle zone, in quelle regioni, però vive questo confino anche con una sorta sempre un po' di grande solitudine, di grande amarezza, insoddisfazione, eccetera. Rispetto per esempio al confino di Carlo Levi che era confinato in Lucania, lui nelle sue poesie come lo stedazzo di Lavorare stanca esprime soprattutto la solitudine, è uno delle tematiche fondamentali della letteratura di Cesare Pavese, un animo tormentato, la letteratura contro le offese della vita, ad esempio, dicevamo, le delusioni amorose, ecco, senz'altro, oppure diciamo la prepotenza della politica, il mal d'amore, ecco, tra l'altro proprio anche il fatto di essere confinato, costringe a troncare un rapporto amoroso che aveva con una donna che poi quando tornerà vedrà che avrà già un altro fidanzato, diciamo, e quindi tutto questo non va altro se non a moltiplicare il suo disagio esistenziale, la sua amarezza, anche lo stesso confino abbiamo detto, che è vissuto da lui comunque in modo tormentoso, l'impegno civile, perché comunque lui è antifascista, quindi partecipa a questi primi gruppi, addirittura gli viene affidata una rivista di una certa importanza, nel 34, sapete che nel 34 gli era stata affidata una rivista, adesso non ricordo bene il titolo di questa rivista, però è una rivista molto importante, ah sì, si chiamava Cultura questa rivista, era una gloriosa rivista fondata nel lontano 1882, insomma era comunque, partecipava attivamente a questi circoli un po' antifascisti culturali, eccetera, della Torino soprattutto del tempo, perché lui è vero che era nato nelle larghe, ma poi era andato a studiare a Torino e si era formato a Torino e lì era rimasto e quindi dicevamo le delusioni amorose, che un po' segnano tutta quanta la sua esistenza sin da questa giovinezza, fino a quando appunto poi l'ultima delusione amorosa forse sarà la goccia che farà travocare il vaso e che quindi lo convincerà a togliersi la vita, come farà quando si suiciderà nel 1950. Tornato a Torino perché effettivamente era stato condannato a tre anni di confino, ma poi questi tre anni sono ridotti a uno solo, Cesare Pavese va incontro, ecco sì, è appunto una cosa che vi ho detto prima, cioè ha delusione amorosa perché la sua ragazza lo ha lasciato, mentre lui era andato al confino la ragazza si è messa con un altro. Questo è definitivo, scrive appunto in questo diario, il mestiere di vivere un diario, data 5 gennaio del 38, scrive questo è definitivo, tutto potrai avere dalla vita, meno che una donna ti chiami il suo uomo e finora tutta la tua vita era fondata su questa speranza. Lui aveva investito, quando lui amava una donna lo faceva con grande intensità, si aspettava tanto da questo, voleva una definitività, una vita che comunque è una vita anche fatta di tante delusioni, almeno sognava di avere un rapporto stabile con una donna. Quando vede che questo non è possibile dice che è una condanna, questa è una condanna, è una cosa tremenda, aveva fondato tutta la sua vita su questa speranza, di questo rapporto stabile con una donna, questo qua viene meno e quindi è chiaro che diventa disperato. Esempio, ancora sempre nel mestiere di vivere, in data 5 ottobre del 38 scrive, l'offesa più atroce che si può fare a un uomo è negargli che soffra. Non puoi dire a Pavese, convincerlo a negare la sua sofferenza, la sua sofferenza è la sua vita, la sua vita è questa, la vita è una lotta, mestiere di vivere, purtroppo non è una lotta che abbia una buona riuscita, è una buona prospettiva. Un anno dopo, sempre nel mestiere di vivere, il 14 dicembre scrive, ci vuole la ricchezza d'esperienza e del realismo e la profondità di sensi del simbolismo. Tutta l'arte è un problema di equilibrio fra due opposti. Ecco, ogni tanto in questo diario del mestiere di vivere qualche riflessione anche sulla letteratura. Per Pavese la letteratura è un po' in equilibrio instabile, diciamo così, tra realismo e simbolismo. E quindi lui è realista, perché abbiamo detto che legge gli americani, gli piace scrivere appunto non di cose retoriche, gli piace scrivere della realtà, però nello stesso tempo è anche molto attratto dal simbolismo. Ecco, i critici hanno utilizzato questo termine, hanno parlato di realismo lirico, a proposito delle opere di Cesare Pavese. Hanno parlato di realismo lirico, come se quindi accanto al realismo ci sia qualcosa di poetico anche nelle cose che lui descrive, che racconta. Anche quando scrive romanzi su vicende storiche, ad esempio, c'è comunque qualcosa anche di questo simbolismo, di questo lirismo. A Torino, con questi giovani, sono i giovani appunto di questa casa editrice in Audi, lui comincia a lavorare con loro, traducendo alcuni testi americani. In questi anni conosce Fernanda Pivano, un intellettuale straordinario, eccezionale, che ha conosciuto appunto, dicevamo, Pavese, Hemingway, piuttosto che Kerouac, tantissimi scrittori americani. Fa parte di questa cerchia, cerchia di intellettuali che rappresentano una ventata nuova nella nostra letteratura. Quella ventata nuova, questa finestra si aprirà appunto finalmente quando terminerà la guerra e diventerà un patrimonio per tutti. La casa editrice in Audi, la Fernanda Pivano, le traduzioni degli americani. I fascisti hanno cercato in tutti i modi di frenare questo, questo impeto nuovo, questa novità. Poi però, quando sono stati fatti fuori, questa novità è arrivata direttamente nella letteratura italiana. Ora, lui aveva scritto una raccolta poetica, questa raccolta poetica si intitola Lavorare stanca, questa raccolta poetica è praticamente un po' un fallimento. Allora lui dice, ma proviamo a scrivere di narrativa invece che di poesia, visto che la poesia non è stata accolta molto bene dalla critica, dal pubblico, proviamo a scrivere di narrativa. Effettivamente bisogna dire che quando Pavese comincia a scrivere romanzi, ha più successo che con le sue poesie e noi lo ricordiamo più come romanziere che non come poeta. Scrive per esempio nel 41 Paesi tuoi, tra il 43 e il 45 si rifugia presso la sorella nel Monferrato. Dovete sapere che tra il 43 e il 45 siamo nel pieno della guerra civile, no? E Torino tra l'altro è bersaglio di bombardamenti e quindi anche per questo lui va via da Torino, perché cadono le bombe, insomma, molte persone muoiono. Ebbene, questa esperienza ispirerà il suo famoso romanzo La casa in collina, dove il protagonista è alter ego di Cesare Pavese, cioè un intellettuale, un professore, eccetera, che si rifugia in collina mentre la città è assalita dalla guerra in maniera più diretta, diciamo così. Inabile alle armi per asma, assiste alla lotta per la resistenza prendendo le difese degli antifascisti in modo però poco attivo, cioè non partecipa alla lotta partigiana in prima persona. Allora diciamo che effettivamente, diciamo la verità, già sono passati un po' di anni e lui è debole di salute, cagionevole di salute. Abbiamo già parlato prima della pleurite, quindi effettivamente lo fa anche perché sarebbe impossibile per lui andare sulle colline e combattere con i partigiani d'inverno, ad esempio, modirebbe. Quindi lui di per sé è assolutamente giustificato, assente giustificato, Cesare Pavese. Pure prova un senso di colpa, perché non può sopportare il fatto che i suoi amici combattano in prima persona questa lotta partigiana e lui rimane un po' in disparte. Brava, capisci qual è il problema. Allora abbiamo Calvino, Fenoglio, studieremo, sono gli intellettuali che hanno partecipato in prima persona alla lotta partigiana e poi l'hanno anche descritta nei loro libri. Il sentiero dei nidi di ragno di Calvino, ultimo viene il corvo di Calvino e poi insomma il partigiano Johnny, una questione privata di Beppe Fenoglio. Mentre Pavese nella casa in collina descrive un po' la sua passività in questa fase particolare della lotta per la resistenza. Nel 1946, guerra finita, si iscrive al PC, quindi insieme con tanti altri intellettuali neorealisti, vede nel comunismo, diciamo così, la possibilità finalmente il sogno di poter cambiare la società nel senso di una giustizia sociale. Diventa poi direttore editoriale, la casa editrice in Audi, dove incontra e apprezza il giovane Calvino. Si dedica alla mitologia con i dialoghi con Leuco. Abbiamo già detto che i dialoghi con Leuco sono un testo fondamentale in questo periodo. Infatti là ci sono i fondamenti antropologici e psicoanalitici dei miti e delle religioni. Quindi è un testo molto interessante questo dei dialoghi con Leuco, in cui si sviluppa la poetica del mito tipica, dicevamo, di Pavese. Medita sulla natura umana, sull'infelicità prodotta dall'incivilimento. Mette a confronto l'età dei titani, ovvero la preistoria un po' diciamo bestiale o ferina, caotica, istintiva, ma libera dell'uomo, all'età olimpica degli dei e degli eroi, ordinata e funzionale, ma piena di divieti, di condizionamenti. Cioè per lui esiste un'età mitica, l'età dei miti, di un'età ancestrale, che è da recuperare. Infatti una delle tematiche fondamentali, la tematica del nostos, un po' la prende dall'odissea, diciamo, di Omero. C'è il ritorno, ritornare al paese, ritornare a un passato mitico. Questa è una delle tematiche più importanti. si innamora dell'attrice Constance Dowling. Appartengono agli anni 45-50 alle poesie di Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, dove quasi profeticamente capisce che stretto legame ci sarà fra la donna, la donna soprattutto quella che non corrisponde al mio sentimento d'amore e la morte, il suicidio. Gli ultimissimi anni della sua vita saranno caratterizzati dai riconoscimenti accademici, dal successo editoriale dei suoi romanzi. Non abbiamo parlato di tutti gli altri suoi romanzi, che sono per esempio a Feria d'agosto del 46, la spiaggia del 42, il compagno del 47, la bella estate del 49, la casa in collina, dicevamo appunto, del 49. Il compagno, l'abbiamo già detto, del 47, sì, esatto. Poi ancora il diavolo sulle colline, tra donne e sole, è la luna e falò. Forse la luna e falò, che è il suo ultimo romanzo, è il più famoso dei suoi. Infatti la casa in collina e la luna e falò sono da considerare i suoi capolavori. Nel 49 riceve il premio strega, quindi vince un premio di narrativa. Ma proprio al culmine del suo successo, nel 50 si suicida in un albergo di Torino. Il suo diario, quindi il libro di cui parliamo oggi, Il mestiere di vivere, sarà pubblicato postumo dopo la sua morte. Quali sono le ultime parole che ha scritto Cesare Pavese prima di suicidarsi? Sembrava facile a pensarci, eppure donnette l'hanno fatto. Ci vuole umiltà, non orgoglio. Tutto questo fa schifo, non una parola, un gesto, non scriverò più. Ecco, vedete queste frasi spezzate, ci testimoniano in modo drammatico di quelli che sono stati gli ultimi, insomma, momenti, gli ultimi giorni della vita di Cesare Pavese, la sua scelta definitiva, di togliersela, questa vita che già tanto l'aveva amareggiato, insomma. E' come se questa tensione, questa drammaticità era riuscito sempre e comunque a sopportarla, malgrado tutto, arriva un momento in cui questa corda si spezza. Passiamo adesso a parlare del libro Il mestiere di vivere. Questo libro rappresenta quasi un unicum nella letteratura italiana. Mi vengono in mente i pensieri di Blaise Pascal, per esempio, nella letteratura francese. Beh, certo, ci sono stati dei testi di carattere diaristico, per esempio nel Settecento ricordiamo le Memoir, le Memorie di Goldoni, oppure La vita scritta da esso di Vittorio Alfieri. Però forse c'è maggiore analogia con lo Zibaldone di Leopardi. Lo Zibaldone di Leopardi era un diario in cui Leopardi scriveva le sue riflessioni, i suoi pensieri, magari anche sulle poesie che stava per scrivere o che aveva scritto. Quindi il mestiere di vivere è un po' lo Zibaldone di Pavese, così come i dialoghi con Leuco rappresentano un po' le operette morali di Pavese. Come nelle operette morali ci sono quei personaggi un po' presi dal mito, non so, se ti ricordi, non so, Plotino, Porfirio, La Moda, La Morte, Federico Roche, Le Mummie, eccetera, eccetera. Così ci sono anche personaggi mitici nei dialoghi con Leuco. E così come nello Zibaldone Leopardi riversa tutte le sue riflessioni esistenziali, così farà anche Cesare Pavese in questo mestiere di vivere. La grande novità e differenza sta nell'esistenzialismo di Pavese, l'abbiamo già detto, dietro Giacomo Leopardi c'è comunque la filosofia sensista, materialista, illuminista del Settecento, meccanicista, mentre dietro Montale oppure dietro Pavese c'è invece la filosofia del Novecento, che a partire è un po' da Nietzsche in poi, ha fatto tabula rasa di qualsiasi tipo di punto di riferimento, anche della ragione. Cioè la filosofia di Leopardi era comunque una filosofia razionale, comunque era una filosofia amara, era una filosofia nichilista, no, un po' nichilista, sì, Leopardi, sì, senz'altro, però sì, però c'è il punto di riferimento della ragione c'era, razionalismo illuminista. Invece in questi scrittori del Novecento sono caduti tutti i punti di riferimento, l'abbiamo detto che nella crisi che c'è tra l'Ottocento e il Novecento cadono anche questi punti di riferimento la ragione, la scienza, cadono. Che cosa rimane? Rimane ad esempio una delle filosofie che si era molto diffusa nel Novecento, non so se ne avete parlato con la vostra professoressa, è l'esistenzialismo. L'esistenzialismo che fonda le proprie radici anche in Kierkegaard e Schopenhauer si diffonde molto nel Novecento per opera dei filosofi francesi, Jean-Paul Sartre, Bercamieux e poi anche Merleau-Ponty, insomma, perché Sartre e Camieux sono anche letterati, oltre a essere filosofi. Merleau-Ponty invece è più un filosofo, no? Ebbene, c'è una certa sintonia. Lo stesso Moravia, di cui abbiamo letto gli indifferenti, a un certo punto scrive La Noia. Vengono tradotti in italiano anche i romanzi di Jean-Paul Sartre come La Nausea, no? E quindi diciamo che tutti questi filosofi, pensatori, eccetera, descrivono un certo disagio esistenziale con questa loro filosofia. Spesso anche con il tentativo di cambiare le cose, però, di cambiare la società, di cambiare la politica. Jean-Paul Sartre, per esempio, frequentava, insomma, il Partito Comunista, anche lui, aveva visto anche Pavese, no? C'era scritto il Partito Comunista italiano, Jean-Paul Sartre, un attivista politico, no? Ancora più di Pavese. Quindi, suggestionato anche da questi pensatori, ma da tantissime altre letture, provate a pensare, no? Provate a pensare, ad esempio, ai romanzi di Kafka o di Proust, eh? Per esempio, Proust, il ricordo, no? I ricordi sono molto importanti anche per Pavese, abbiamo detto i ricordi, il ritorno, eccetera, no? Suggestionato da tutto questo, Pavese scrive un libro originalissimo, che è questo libro del mestiere di vivere, più estemporaneo rispetto allo zibaldone di Leopardi. Ad esempio, quando io leggo lo zibaldone di Leopardi, vedo che i pensieri, c'è una data, benissimo, un diario, no? Giusto? Con una data. Ma questi pensieri sono più lunghi, sono più distesi, più articolati nello zibaldone di Leopardi. Invece, nel mestiere di vivere sono un po' più a flash, come una serie di aforismi, di massime sulla vita, cioè di sentenze, se vogliamo, preziose, da conservare nella coscienza. Scrive, per esempio, nel suo mestiere di vivere, Cesare Pavese, non si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi. Bellissime queste frasi, anche molto poetiche, veramente. Secondo me è uno dei capolavori di Pavese, questo libro del mestiere di vivere. Ma comunque diciamo che è un libro molto bello da leggere perché è un libro di pensieri, di riflessioni, no? Perché è un testimonio di questa profondità con cui Pavese vedeva la vita. Certo con un po' di amarezza, diciamo la verità. Però abbiamo visto anche con Leopardi, certe volte, quelli che anche sono un po' più amave, pessimisti, riescono a cogliere più nel profondo, come siamo fatti noi, come la vita e le verità della vita. Per esempio, tanti pensieri di questo mestiere di vivere sono sull'amore. L'abbiamo già visto come era importante per Cesare Pavese, l'amore. Che lui amava queste donne, poi queste donne sempre o l'hanno tradito o comunque non hanno corrisposto ai suoi sentimenti, no? Allora dice, scrive per esempio il 19 gennaio del 38 nel suo mestiere di vivere Pavese scrive perché il veramente innamorato chiede la continuità, la vitalità, lifelongness dei rapporti. Perché? Scusatemi, ma cerchiamo di essere un po' razionati. Cerchiamo di essere un po' razionati. Lo sappiamo o no? Che quando ci mettiamo insieme con qualcuno è dura, è difficile che continui sempre con questa grande bellezza, per esempio, che c'è all'inizio di un rapporto. Ci rendiamo conto che è così impossibile effettivamente una durata così lunga di un sentimento con un'intensità del genere. E allora perché continuiamo comunque ad avere questo sogno, ad avere questa illusione? Oh, non c'è niente da fare. Continuiamo ad avere questo sogno, questa illusione, anche se la vita continuamente, come dire, ci delude, cioè ci fa cadere questi sogni, queste illusioni. Eppure è così. Ah, noterete, avete notato la parola inglese, tra parentesi, perché abbiamo detto che Pavesi amava molto, eh? La letteratura inglese, la poesia inglese. Allora lui dice così. Perché uno innamorato continua ad avere questa illusione dell'eternità del rapporto? E lui risponde, perché la vita è dolore e l'amore goduto è un anestetico? Ah no, scusate, risponde così, dice, certo, perché la vita è dolore e l'amore goduto è un anestetico, cioè la vita è dolore, la vita è sofferenza. E quando tu stai insieme con un altro e stai bene con quest'altro, è come un anestetico che quindi manda via questo dolore. E chi vorrebbe svegliarsi a metà operazione? Nessuno. Quindi il sogno di poter continuare in questa anestesia, ad anestetizzare i nostri dolori, nelle nostre sofferenze. Ecco perché il nostro sentimento d'amore è così, tende così all'eternità. Ecco il dolore e la sofferenza è una delle altre tematiche che si trova in questo diario del mestiere di vivere. Ad esempio a un certo punto scrive, ma la grande, la tremenda verità è questa, soffrire non serve a niente. Perché per esempio nel cristianesimo ti dicono se tu soffri, la sofferenza ha un significato. Provate a pensare ad esempio alla croce. La croce di Cristo per i cristiani è una sofferenza che ha un significato. Pavese invece è tragico e dice il problema è questo, che nella vita si soffre e che questa sofferenza non ha un significato. Mi viene in mente un po' che quello che abbiamo letto su Leopardi, no? Pavese è grande anche per questo, no? È un po' il Leopardi del Novecento, è bellissimo. Tu quando hai detto facciamo Pavese, no? Eri entusiasta proprio per questo. Perché è vero, c'è un po' c'è amareggia, però nello stesso tempo ci attrae sta roba qua. Certe pagine del mestiere di vivere sono sulla letteratura. Per esempio scrive sulla tentazione dello scrittore, lui scrive nel suo diario, scrive, aver scritto qualcosa che ti lascia come un fucile sparato, ancora scosso e riarso, vuotato di tutto te stesso, dove non solo hai scaricato tutto quello che sai di te stesso, ma quello che sospetti e supponi e sussulti, fantasmi, l'inconscio. Averlo fatto con lunga fatica e tensione, con cautela di giorni e tremori e repentine scoperte e fallimenti e irrigidirsi di tutta la vita su quel punto, accorgersi che tutto questo è come nulla se un segno umano, una parola, una presenza non lo accoglie, lo scalda, è morire di freddo, parlare al deserto, essere solo, notte e giorno come un morto. Bellissima anche questa pagina del mestiere di vivere che è un po' secondo me la dimostrazione che quando uno scrive ha anche bisogno del lettore, perché quando uno scrive è come se una parte di sé, lasciasse una parte di sé sullo scritto, è un po' questo quello che dice, è un po' una sofferenza, un parto, la scrittura è un parto, però sarebbe inutile se non ci fosse qualcuno poi a una presenza che lo accoglie, questo parto della scrittura, se non ci fosse qualcuno ad accogliere questa scrittura, bellissime queste pagine del mestiere di vivere, per esempio sui rapporti umani nel luglio-ottobre del 48, perché è un diario che ha scritto poi quasi fino alla morte, abbiamo detto che l'ha iniziato nel 35, poi l'ha finito, cioè è stato pubblicato dopo la morte il mestiere di vivere, nel 48 per esempio il 24 luglio del 48 scrive, una persona che ti lascia intendere che vive a modo suo, ha idee, giudica te e gli altri, fa meno di te, è deprimente, non c'è che ignorarla, trattarla come lei tratta te, quindi nei rapporti umani ci sono delle persone con cui sei in sintonia e che mostrano una loro profondità umana e certi altri invece che mostrano il loro sostanziale egoismo e allora questi, è meglio lasciarli perdere dove sono, ecco però dicevamo l'amarezza è un po' quella che contraddistingue gran parte insomma delle pagine del mestiere di vivere, quando per esempio il 24 maggio scrive, è bello quando un giovane 18-20 anni si ferma a contemplare il suo tumulto e cerca di cogliere la realtà e stringe i pugni e quindi diciamo stringere i pugni anche un senso di rabbia quasi, stringere i pugni poi mi viene in mente la rabbia ma meno bello è farlo a 30 come se niente fosse successo e non ti viene freddo a pensare che lo farai a 40 e poi ancora, quando scrive questa cosa a 40, quando lui si uccide a 42 anni, ecco questa è un po' la sintesi della sua vita, una vita in cui c'è la stessa amarezza, il stesso dolore, solitudine che provava da giovane, continua a provarla anche quando ha 30, anche quando ha 40 anni, a un certo punto questo diventa insostenibile e di fronte a questo non può far altro, non può decidere altro se non talessi la vita altri video didattici su